Udienza sull'istanza di fallimento di Cogge Mantovani al Tribunale di Padova con relativa manifestazione di protesta di dipendenti e sindacati che chiedono certezze per il futuro. Il giudice non ha dichiarato fallita l'impresa ma ha concesso alla proprietà di Cogge Mantovani di pagare i lavoratori entro fine mese, lavoratori che si lamentano delle difficoltà in cui si trovano. Da novembre che non riceviamo lo stipendio e a questo punto ci hanno costretto praticamente a prendere questa posizione perché non c'è niente di certo. Dei lavoratori trasferiti da Mantovani che ha ceduto in affitto il ramo d'azienda a Cogge Mantovani ne sono rimasti solo una ventina per le difficoltà incontrate quotidianamente. Ad oggi erano 116 persone che si sono trasferite da Mantovani alla Cogge Mantovani, oggi sono rimaste 25. Tutte le altre si sono dimesse perché non venivano pagati i stipendi. Sulla decisione del giudice di concedere ancora dei giorni per saldare le pendenze con i lavoratori i sindacati si dichiarano parzialmente soddisfatti e auspicano che sia fatta chiarezza e arrivino delle risposte. Chiamo che ci siano delle positività, delle risposte per i lavoratori sia per quanto riguarda quelli rimasti perché potrebbe essere che Mantovani sembra abbia resciso il contratto all'affitto del ramo d'azienda. Vedremo quali sono i sviluppi. Vogliamo delle risposte da parte della giustizia e da parte degli enti competenti. Vogliamo delle risposte